I miei principi, i vostri principi, quali sono gli elementi che ogni giorno guidano la vostra vita, le vostre scelte lavorative, le vostre scelte personali. Ognuno di noi ha delle regole, spesso inconsapevolmente, che ogni giorno gestisce e ogni giorno applica. Certamente sono legati ai valori, certamente sono legati a un obiettivo personale, ma credo che ognuno di noi applichi i principi in modo sistematico. E più andiamo su con l'età e più questi principi diventano stabili, fissi e punti di riferimento. A partire da oggi, nei prossimi podcast, mi permetterò di condividere con voi i miei principi. Leggendo un libro, ho letto che è importante trasferire quello che abbiamo nella testa, nel cuore, nella pancia, su carta. E così ho fatto. Vi posso dire che è un esercizio molto interessante. È un esercizio che ti porta ad entrare dentro te stesso. Ovviamente non è un lavoro one shot, non è un lavoro che ho fatto. Mi siedo, li faccio tutti. Oddio, magari qualcuno è in grado di farlo. Personalmente ci è voluto del tempo, ci sono volute settimane perché li scrivi, li correggi, li modifichi, li aggiusti, perché non è soltanto la frase del principio, è perché faccio questa cosa, è perché è una linea guida. In questo percorso vi invito a scriverli con me. Ad ogni puntata di questo podcast vi invito a mettervi sul tavolo e scrivere il titolo del vostro principio. Nella settimana successiva vi invito a descrivere perché quell'elemento importante, per quale motivo questo principio vi guida così nel profondo e perché, su quali basi definite che è un principio, su quali basi definite che è una vostra linea guida. Quindi iniziamo il viaggio principi. Iniziamo il viaggio in quello che ci differenzia da tutti gli altri. E questo viaggio lo voglio iniziare col mio principio numero uno. Ripartire il rischio su campi differenti. questo ovviamente è molto più applicato, applicabile, pardon, nel campo del business. Non investiamo tutto. Io non investo mai tutto in un campo solo. Non punto tutto su un solo business, su una sola attività. Cerco di ripartire in modo che in un mondo, soprattutto dove l'instabilità la fa la padrona, io possa riuscire a muovermi all'interno di questo mondo, sia dal punto di vista economico. È importante guardare più fronti. Io stesso nel mio lavoro, che passa dall'attività di consulenza, all'attività di management, all'attività di imprenditore vero e proprio, anche se è tutto tondo, in ogni di queste attività, svolgo l'attività imprenditoriale, poi, di più o meno grandi dimensioni, cerco sempre di capire quali possono essere i diversi aspetti sui quali lavorare. Cerco di ragionare sui miei investimenti, gli investimenti delle mie aziende e, in genere, può dire sempre, io investo sempre in ciò che conosco, in ciò che posso in qualche modo capire, in ciò che mi può portare più avanti o in qualcosa che io posso studiare, comprendere, elaborare e quindi in qualche modo essere attore nelle scelte dei miei investimenti. Subire un investimento, subire informazioni di altri, dirvi ok, va bene, vengo lì, totalmente, per quanto mi riguarda, totalmente sbagliato. Non facciamoci seguire dal cuore, non facciamoci seguire dagli amici che dici guarda, l'ho fatto io, lo fallo anche tu. Se volete seguire questa politica, studiate il settore in cui andrete a investire. Ma ritorniamo al punto, al principio, ripartire il rischio in più campi. campi differenti, suddividendo gli investimenti, createvi le vostre formule economiche che vi permettono di stare in equilibrio, una ripartizione percentuale del proprio investimento, non soltanto economico, anche dell'investimento personale. Anche nelle vostre attività dovete ripartire l'energia in maniera proporzionale. Mai tutto su un colpo. Io credo che anche nel massimo della certezza del risultato investire tutto in un solo argomento, in un solo punto, sia troppo rischioso oggi. Le variazioni che ruotano intorno a noi sono talmente rapide, talmente elevate che non ci consentono di avere una percentuale di successo tanto elevata da potersi concentrare solo su un argomento. Quindi a chiusura, ripartire il rischio su campi differenti, non puntare tutto su un solo business, avere formule economiche che siano in equilibrio e che vi portino equilibrio non soltanto economico ma anche mentale, suddividere gli investimenti e investire in ciò che conosci. Principio numero uno. Ci sentiamo per il principio numero due. Buon ascolto.